Il problema dei sindaci, le difficoltà che hanno gli altri sindaci, non è perché c'è il sindaco Betti, perché c'è un problema finanziario e quelli hanno paura che magari questo problema finanziario investa anche le loro amministrazioni. Il problema finanziario, tanto per chiarire, lo è creato da queste forze politiche. Da Marco Marcucci, va bene. Da Marco Marcucci, l'ha detto la Corte dei Conti? No, scusa, il MEF, il MEF, cosa ha detto? Il MEF registra gli ultimi cinque anni, se tu fossi onesto, di questo, che il MEF c'è solo gli ultimi cinque anni, la Corte dei Conti, no, l'onesto sei te, e non ti permettere di dire che sono disonesto, sei scorretto e pigliato, quando dici così, va bene, e ritira che sono disonesto, ritira che sono disonesto, ritira che sono disonesto, ritira che sono disonesto, sei un maleducato, vergogna, 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 che si è maleducato, vergogna, non conti nulla, ti devi vergognare, te non conosci la realtà, e stai artefacendo la verità, e ti stai inventando la verità politica di Viaregno. Santini per cortesia, passiamo, fai pena se fai così, fai pena, sei vergognoso, non hai titoli, Non è corretto, Santini, eh, forse... Non è corretto dire le balle che si porta con il corpo qui, vergognati, vergognati. Facciamo una cosa, andiamo in pubblicità per qualche istante, poi torniamo tra pochissimi. Ha ragione Sgarbi, saprebbe Sgarbi cosa dire di te. Chi è? Sgarbi, saprebbe cosa dire di te. Sgarbi? Sì, te lo sei detto da solo, hai visto? Ah, ah.